Ciao a tutti, eccoci qua in un nuovissimo video, oggi il secondo video in cui giudico due profumi al primo spruzzo. Partiamo con il profumo che ho su questo braccio qua, ed è Foglie di Tè, il nuovo uscito di casa Erbolario, che è stato lanciato appunto quest'anno, nel 2021, ed è una fragranza agromata, fiorita, verde, unisex. Quello che dichiara Erbolario, all'interno della sua piramide olfattiva, sono Foglie di Teolong, Verbena, Menta, Aquatica e Assoluta di Matè. Questo profumo è stato un sussulto quando me l'hanno spruzzato, perché è partito in un modo che proprio io non immaginavo. E mi è arrivata una folata, tramite addirittura la mascherina, di camomilla. Quindi la prima impressione che ho avuto è di questa tisana rilassante, ma presumo che sia appunto questa verbena che gli conferisce questa dolcezza e questa nota tipicamente rilassante delle tisane che si prendono magari delle volte la sera prima di andare a dormire. Molto zuccherina, molto dolce, molto rassicurante. E poi subito dopo questa verbena si è nascosta per far uscire il corpo del profumo, che è questo buonissimo infuso di tè. Quindi si sentono queste foglie di tè rinfrescate dalla mente acquatica. E diciamo che gli vanno a conferire a questo profumo una specie di tranquillità da una parte e energia dall'altra. E' un profumo veramente ambivalente perché secondo me riesce a fare entrambi i giochi. Cioè rilassare con questa sua entrata così molto delicata, questi capolini di camomilla mi pare di sentire, per poi appunto dare una sferzata di energia con queste note di tè rinfrescate dalla menta. E' un profumo veramente molto originale, rinfrescantissimo, sicuramente pensato bene in questo periodo in cui stiamo andando incontro al caldo, quindi quando si ha voglia di qualcosa che rinfresca. Un profumo che non ha una durata eccezionale, però è un profumo che fa sentire bene. Sicuramente lo andrò a risprozzare, magari in un contesto in cui riesco anche a godermelo un po' di più per vedere anche come si comporta e poterlo assaporare. Comunque è un profumo che mi è piaciuto molto perché avevo delle aspettative molto basse, perché non è che sono una grande amante delle note di tè, invece mi è piaciuto molto. Da questa parte invece abbiamo un capolavoro che io me l'ho sempre rifiutata di annusare per un pregiudizio ed è sbagliatissimo avere pregiudizi sui profumi. Ed è il famoso Aura di Thierry Muglè. Forse si è detto già tutto di questo profumo, ma anch'io voglio dare la mia, anche perché rispetto a quello che dice la maggior parte delle persone, io ho un punto di vista molto differente su questo profumo. Comunque Aura è un profumo ambrato da donna che è stato lanciato sul mercato nel 2017, che ha questa apertura di foglie di rabarbaro e di bergamotto, poi ci sono delle note centrali di note verdi, fiori d'arancia, langhi lang e pera. E note di base che sono vaniglia bourbon, note legnose, amberwood, sandalo e cumarina. Allora questo profumo è stato un colpo di fulmine. Tanto io l'ho odiato, tanto però ci ho fatto il filo, mi sono riletta tante volte le note olfattive, sono andata un attimo a vedere su internet di cosa si trattasse, che probabilmente io alla fine un filologico all'interno del mio cervello me l'erofatta, quindi ho presumibilmente allenato il mio cervello e di conseguenza il mio olfatto a un profumo che in testa mia non mi sarebbe piaciuto. Però ecco perché delle volte lo studio aiuta, perché si sa già a che cosa si va incontro. Quindi magari il giorno che si è predisposti ad annusare una fragranza con quelle determinate notte, probabilmente è il giorno buono che quella fragranza ci piacerà. Niente, lui veramente mi ha rapito il cuore, e penso che sarà uno dei miei futuri acquisti, perché è un profumo originalissimo, una cosa che sicuramente non è sentita, non è, come dire, la solita minestra. È un profumo estremamente evocativo. Io me lo sono proprio gustata e ha un'evoluzione che è spettacolare. Ma la cosa bellissima è che si apre con questa foglia di rabarbaro che gli dà una specie di amarezza e freschezza che però dura veramente qualche attimo. Tutto ciò è aiutato dal bergamotto. Diciamo che io adesso ce l'ho da un po', quindi sono già alle note di fondo, però mnemonicamente cerco di rimmaginare quello che io ho provato prima. Comunque c'è questo bergamotto che lo rafforza, lo rinfresca ulteriormente, però poi lascia lo spazio, dopo qualche minuto, a queste note verdi che sono meravigliose. E l'insieme di questa vaniglia, delle note legnose, dell'ambervo, del sandalo, della cumarina, rendono questo aura qualcosa di veramente autentico. Io, quando l'ho usato, sono stata catapultata nella mia seconda casa, che è Ostuni, in Puglia, dove ho ben presente l'odore delle case, quelle vecchie, costruite nel tuffo, quindi magari che sono anche in zone sotterranee o che comunque hanno questo odore di umidità, che per un momento mi sembrava di essere proprio in Puglia. Ho un legame fortissimo con questa terra e tante cose mi riconducono a lei, però è stato molto emozionante, mi sono, devo dire, quasi commossa per questa sensazione che questo profumo mi ha dato, perché io ero lì, in un preciso posto, con un preciso tempo sopra di me. C'era un sole, ero in una casetta di tuffo, imbiancata di calce, che all'interno ha questo odore di umido, ma un umido terroso. Cioè, prendete le mie parole comunque, come cosa bella, come una specie di poesia, non come una cosa volgare. Magari chi capisce qualcosa di profumi può capire, senza prendermi in giro, quello che io sto cercando di descrivere. comunque una sensazione proprio di contatto spirituale con questa terra. e per un momento vi posso assicurare che io pensavo di essere in quella meravigliosa terra che è la Puglia. E questo profumo è fresco, è verde, umido, mi dà questa sensazione di umidità. secondo me si è portate a chiedere chi è che lo indossa, perché a tratti anche è misterioso, no? Questa nota di rabarbaro iniziale, che poi svela un cuore alla fine di vaniglia, che è particolare, non è la solita vaniglia che si sente, è rafforzata da questo sandalo, da tutto questo insieme di note legnose, danno un equilibrio a questo profumo che parte in un modo, finisce in un altro, ha delle note veramente molto particolari, che fanno di esso un capolavoro. La persistenza è fantastica, perché mi è durato molto sul braccio. E buono, buonissimo, veramente un profumo che vale la pena. È un profumo diverso, e sicuramente che vi contraddistingue. Lo voglio nuovamente riprovare, e vedere che cosa mi rievoca, ma solo il pensiero che comunque mi rimanda in Puglia è tanto, quindi posso dire che già lo adoro, è stato proprio un colpo di fulmine. Niente, io con questi due profumi vi saluto, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!